per capire visto che sulla formazione insomma non siamo riusciti ancora decodificarti e allora per provare a svelare l'ancelotti firmerebbe per un pareggio prima di questa partita mai firmato in vita mia per un pareggio poi abbiamo preso anche delle scopole assurde ma vado avanti su questa linea qua vado avanti su questa linea qua non dobbiamo pensare al risultato dobbiamo pensare a fare una bella partita intensa cercare di ripetere esattamente quello che abbiamo fatto nelle ultime due come ho detto aumenta il grado di difficoltà inevitabile perché sicuramente avremo più pressione saremo diciamo più sottoposti a una difesa più attenta però dobbiamo non è che ci dobbiamo discostare tanto da quello che è stato il napoli delle ultime due partite perché quello il napoli che voglio un'altra cosa se possibile al volo in allegri c'è qualcosa di ancelotti ma non lo so non lo so non lo so di certo così credo che ci sia la praticità soprattutto diciamo la conoscenza di un calcio legato alle caratteristiche dei giocatori che hai associata del press i calo aiutati what do you think about koulibaly and mal qui what what for you is this player in as men and player in italiano come la vuoi inglese o francese francese tanto tutti parlano in inglese anche francese 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 anche francese no de bon joueur sul mo e koulibaly il ha più d'experience ici il è ande le miglior del centro del mondo kevin mal quitté il ha impeccato molto bene molto bene il ha bisogno di tempo per adattare soprattutto l'aspetto tactico ma il primo match è stato molto bene per lui e sono sicuro che il va miglior e tre vite radio chiss kiss bonjour bonjour ma si mi sa va bien mister ha detto non ci dobbiamo discostare molto dalle ultime due partite quindi ovviamente il torino e il parma perché quello è il napoli che voglio e il suo cioè adesso sta vedendo ciò che realmente voleva vedere ma no ma io ho visto anche cioè dobbiamo tenere in considerazione tutti perché se diciamo le ultime partite sono state sono state fatte bene è stato anche perché ci siamo passati attraverso a degli errori a dei problemi e delle difficoltà che abbiamo superato grazie soprattutto all'intelligenza dei calciatori su questo non c'è non c'è discussione perché se tu mostri la squadra degli errori e i giocatori non sono titubanti su questo se non sono autocritici diventa molto di più più difficile diciamo migliorarsi qui c'è c'è stata credo soprattutto molto autocritica e le cose sono migliorate molto in fretta per come lo sta utilizzando e i risultati ovviamente sono visibili a tutti parlo di insigne può rappresentare la sua guida tecnica per insigne l'esplosione definitiva cioè insigne può diventare ciò che lei fece diventare del Piero ma no ferma un attimo perché adesso mi danno anche dei meriti che io non ho del Piero che sono arrivato alla Juve era già un grandissimo e come è un grandissimo come è stato un grandissimo Lorenzo ed è continuo ad essere un grandissimo ancora prima lui sta giocando in una posizione diversa ci sta dando dei vantaggi se lui è contento di stare lì e credo che lo sia non c'è diciamo nessun problema a continuare anche perché da un punto di vista sia difensivo che offensivo ci sta dando dei vantaggi perché adesso tutti considerano l'aspetto offensivo ma devo dire che una delle cose che più mi ha soddisfatto è stato il lavoro difensivo degli attaccanti in queste partite e allora resto su un attaccante che però lei utilizza anche come tornante ma quanto è prezioso per lei uno come Kaiekon è molto importante perché è un giocatore che ha esperienza sa benissimo quello che deve fare sul campo sia nella fase di difesa che nella fase di attacco un giocatore di fondamentale importanza per questa squadra perché insomma come ho detto prima considerando che questa rimane una squadra molto giovane il fatto di avere giocatori d'esperienza come Albiol come Kaiekon è di aiuto sicuramente in questi due mesi a Napoli se proprio deve avere un piccolissimo rammarico ce l'ha più sul raffreddore di Genova o su quel pareggio di Belgrado dove il suo Napoli avrebbe strameritato di vincere? Tutte e due Canale 8 Buonasera la la pilla di una competizione l'interesse dipende anche dalla sua imprevedibilità possiamo dire che domani il Napoli gioca innanzitutto per se stesso ma anche per rendere più avvincente la serie A e per renderla un prodotto più interessante agli occhi di tutti gli acquirenti anche quelli stranieri chiaramente? ma adesso credo che è una partita per noi siamo contenti di essere nella serie A ma questa è una partita per noi per insomma mostrare soprattutto a noi stessi che vogliamo essere competitivi fino alla fine come abbiamo detto all'inizio della stagione in tutte le competizioni al di là di quello che sarà io sono convinto che al di là di quello che è il risultato di domani il Napoli sarà competitivo e lotterà in tutte le competizioni al massimo Salve mister volevo chiedere se le va di commentare la designazione di Banti e un suo giudizio sul VAR lei l'ha tenuta a battissimo sia in Germania e poi l'ha ritrovato sia ai mondiali come commentatore qui in serie A nel suo ritorno il campionato italiano no nessun problema con la designazione arbitrale per quello che riguarda il VAR credo che alcune piccole cose devono ancora essere messe a posto ma la mia opinione personale che è arrivato troppo tardi e speriamo che anche in Champions League si sveglino e lo mettano un po' prima del 2020 Canale 21 Salve sono qui due curiosità la prima se può descriverci il suo rapporto con Allegri e l'altra di spiegarci la differenza e l'utilizzo le garanzie che può ricevere da Ospina e Carnezis ma dunque con Allegri è un buon rapporto non è che ci andiamo a cena tutte le sere ci vediamo solitamente ci vediamo a Ginevra e passiamo qualche ora insieme ma credo che ci sia stima reciproca da parte mia c'è molta stima nei suoi confronti e credo che lo ha manifestato parecchie volte anche lui nei miei Ospina e Carnezis sono due portieri che sono migliorati molto in questo ultimo che mi danno diciamo le stesse garanzie la stessa sicurezza la stessa fiducia perciò per questo li abbiamo li ho alternati e aspettiamo con pazienza il ritorno di Meret Napoli Magazine Sì mister proprio dalla conferenza stampa di Nassimiliano Allegri si evinceva una grande stima sottolineata a più riprese ha detto Carlo Ancelotti è un professore e ho iniziato a leggere il suo palmaresso a un certo punto mi sono fermato perché erano talmente i trofei che ha vinto che non ce la facevo più a leggerli però poi ha sottolineato mi auguro che lui adesso possa fermarsi ecco Mancelotti si sente appagato oppure vuole vincere con il Napoli e battere il Colosso Juve No io voglio sì voglio sono qua come ho detto non per pettinare le bambole mi piacerebbe diciamo portare a casa qualcosa in questa stagione con questa squadra e questo questo è il lavoro che che voglio fare ci sono le condizioni per farlo sì ci sono secondo me le condizioni per farlo qua perché qui c'è tutto c'è una società organizzata una rosa di qualità e l'entusiasmo di un'intera città ultima ansa eccomi no visto che hai citato Meret le chiedevo ma Goulam diciamo a che punto siamo quando diciamo secondo lei potrebbe essere tra i comuni Goulam sta facendo dei lavori individuali quindi dobbiamo procedere con cautela comunque già è andato sul campo diciamo adesso sta curandosi all'aspetto fisico per migliorare la sua condizione e per diciamo recuperare completamente il tono muscolare ultimissima sulla condizione di Mertens perché insomma è quello che più diciamo è arrivato tardi più ci ha messo un po' ad entrare con me Mertens sta bene ha mostrato contro il Torino diciamo un'ottima condizione ed è stata la chiave del risultato ma una cosa io la posso solo visto che possiamo dire che ci hai sempre fregato sulla formazione che è l'unica volta in cui dovete eh ma sì ma voi avete avuto tre anni di allora vi dovete rimettere in moto grazie a tutti grazie a tutti